Grazie per essere venuto, spesso ci ritroviamo a parlare di Shingeki insieme, oggi un argomento che non è Shingeki no Kyojin, incredibilmente. E qualcuno sarà applaudendo già solo per questo. Benvenuti, niente, che dire, oggi parliamo di So Sono Frieren, immagino che chi c'è insomma abbia già letto almeno magari i primi due volumi, e parliamo, diciamo ci stenderemo fino al terzo volume, però ti risparmi il quarto, comunque vabbè se vuoi dire qualcosa di carattere generale che non è spoiler ovviamente sentiti libero insomma anche, esatto, li ho anch'io i volumi, però dimenticano di prepararli qua, tu prontissimo, sempre sul pezzo. Domenico deve sempre stare sul pezzo su tutti i manga. Ma no, non è vero questo, poi tanti altri non mi ricordo assolutamente niente, solo su quelli, ma no vabbè, tipo l'attacco dei giganti non mi ricordo niente, no vabbè, qualsiasi altra cosa moderna, uscita, ma rimanendo sempre con lo stesso editore, che ne so, anche la regina d'Egitto che mi piace tanto, ma in realtà non mi ricordo niente. Sono free, lo ricordo prima di tutto perché l'ho riletto stamattina, perché altrimenti erano nelle stesse identiche condizioni, però no vabbè, diciamo che in generale ho un'opinione consolidata dal fatto che mi piace tanto, quindi l'ho letto prima digitalmente, poi ho sfogliato tutti i volumi originali giapponesi, sfogliato non letto perché chiaramente non leggendo i giapponesi, il minimo che potevo fare è comprarli dopo averli letti digitalmente, e il massimo che potevo fare era sfogliarli e non leggerli perché non capisco una mazza, e poi li ho letti in italiano. Ecco una domanda, ma come hai iniziato a notare Sosono Free Ren? Perché comunque se l'hai cominciato a prendere in giapponese, perché ti piaceva la copertina? No, assolutamente. Allora, io bisogna spiegare questo metodo, il metodo caverna. Cosa succede? Quando la sera non ho nulla di nuovo da leggere, da un punto di vista proprio fisico non ho altri volumi fisici da leggere, e non ho film da guardare e di cui parlare, mi metto a fare una lotteria, dove ho diversi generi. Ho scritto diversi generi tipo fantasy, oppure horror, soprannaturale, qualcosa che ha a che fare con la psicologia, e tutte queste cose. E straggo un fogliettino, quello che esce comincio a cercare nella chiave di ricerca, come chiave di ricerca di Google. Comincio a cercare manga, scan, fantasy, più ragazza, più qualsiasi altra cosa, ok? Ragazza. Foda mentale. Quel giorno uscì fantasy, uscì fantasy e cominci a cercare le scan di un manga fantasy, e vedi che c'era questa cosa particolare con un elfa strano, friere, e hanno detto fammi vedere se esiste in italiano. C'erano le scan del Junjutsu Team, sono andato a leggerle per capire se effettivamente mi piacesse quella roba là, e in una sera ho letto tutti i capitoli che erano disponibili. Proprio mi ha conquistato fin da subito. Mi ha preso subito, subito, subito. E il giorno dopo ho comprato da eBay tutti i volumi che c'erano in giapponese. La prima immagine che hai visto era quella della copertina dell'Uno? La prima immagine che ho visto è in realtà quel doppio frontespizio. Sto di domande faccio. Quel doppio frontespizio. No, vabbè. Ho paura di ricordarsi la prima immagine che hai visto. No, no, me lo ricordo, è il doppio frontespizio con tutti gli eroi che stanno tornando. Ah, ok, ok, sì, 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 sì. Quella che la J-pop ha messo colorata e nei volumi giapponesi si vede in bianco e nero. Esatto, è in bianco e nero. Grande conquiste dell'editoria italiana. Veramente bravi complimenti a J-pop. Ma infatti sono contento perché comunque stanno facendo dei bei volumi, secondo me, forse ancora un po' troppo solidi. Cioè io preferirei ancora più morbidi di questo per essere più sfogliabili. Cioè secondo me sono un po' troppo dure queste pagine, anche se insomma vanno bene per gli standard italiani. So io che ho le fisime. Più la sovraccopertina e le pagine a colori che non fanno mai male. Sono veramente un grande indice di qualità. Sono anche leggermente più grandi. Sì, sì, un po' più grandi del tankobon giapponese. Quindi effettivamente un'esperienza di lettura comunque superiore a quella giapponese e in ogni caso valida. D'altronde loro sono veramente leader del settore da questo punto di vista. Hanno cominciato così con i volumi sovraccopertina e pagina a colori e spero continueranno sempre così. Bene, bene. Che volevo dire? Allora io precedentemente ti ho mostrato. La prossima domanda sarà, secondo te, Frieren, come si lega i capelli la mattina? Beh, questa è una domanda interessante in realtà. Viene raccontata. Ci dedicano quasi un intero capitolo a questo argomento qua. Tu ci scherzi, ma oddio. A tutta la routine mattiniera di Frieren ci dedicano un pezzettino proprio. Beh, sì, Frieren sostanzialmente ha bisogno anche di questo perché sia uno shonen, però è the fantasy. Quasi un high fantasy, ma è più da RPG. Ma ha al suo interno un sacco di caratteristiche, è Size of Life. Ha proprio tantissimo Slice of Life. Vedi la vita quotidiana dei personaggi che rende tutto molto più interessante. Bene, bene. Ti ringrazio per questa presentazione. Quindi possiamo anche saltare, diciamo, la breve introduzione di Frieren, grazie a Domenico, che sa già dove andare a parare, anche perché io un giorno prima gli ho già mandato la scaletta, per come sono fatta io, lo sapete. Anzi, ti ringrazio ovviamente che sei venuto perché comunque io delle volte forse sono un po' rigida o risulto un po' insomma pesante, ecco, su questi argomenti. Mi posso immaginare che magari uno si può anche spaventare se io mando le scalette fatte in un certo modo e anzi io l'adoro Domenico, mi fa sempre piacere che venga qua perché lui comunque invece accetta sempre con grande entusiasmo le mie idee, le mie iniziative, che comunque in linea di massima mi rendo, io mi rendo perfettamente conto che non siano così compatibili con l'intrattenimento, ecco, che sembra quasi... Ho capito la tua perplessità perché magari sembra di star facendo una live troppo analitica, ma non è il nostro obiettivo questa sera, sarà sicuramente in qualche modo legata a dei punti chiave che ci servono per raccontare meglio quello che abbiamo da dire sul manga, ma chiaramente non sarà una cosa pesante, noiosa, anzi io trovo sempre molto interessanti gli approfondimenti che fai, seppur un po' contorti, nel senso che ci gira sempre intorno al punto di quello che deve dire, però poi si arriva effettivamente a scoprire una verità che può esserci semplicemente, o meglio solo grazie alla mediazione che fa Jaycott, quindi è fondamentale in realtà... Anche perché tu di recente stai portando avanti una rubrica molto interessante, la grammatica del manga, che comunque, ecco, quello è un metodo secondo me bello per introdurre e comunque avvicinare le persone a un lato un po' più tecnico, infatti mi piace molto, del manga, però senza appesantire come faccio io tutte le volte che sto in live. Non metto in dubbio, però, di fare un episodio della grammatica del manga dedicato proprio a Frieren. Ah, non me l'aspettavo, anche perché io, sai, per quanto c'è un fandom consolidato, secondo me, di Frieren, anche in Italia, però è sempre di nicchia. Silenzioso. Eh sì, si fa sentire poco e mi dispiace di questo perché veramente per me è una serie super valida e il casino che stanno facendo in Francia per promuoverlo e tutto si potrebbe fare un po' di più, non dico che non sta lavorando bene J-pop perché secondo me J-pop ha già dato moltissimo. Sì, anche perché ormai siamo al volume 4, insomma. Eh sì, non è un problema di casa editrice che comunque lavora bene quanto forse è un problema che comunque non si è consolidato un fandom così consistente, ecco. e quindi secondo me ha bisogno di altre spinte in cui, quindi, insomma. Vero, vero, forse sì. Ecco la motivazione della live. Questo nostro appunto, questo nostro appuntamento serve anche a questo. Sì, per far vedere magari quelle cose che comunque ho visto già. In realtà ai streamer piace Frieren, quindi ne hanno parlato in moltissimi. Però forse manca quella descrizione in più che renderebbe la storia più interessante. A parte che l'editore giapponese, secondo me, non si è impegnato abbastanza, eh. Nel senso che comunque intanto quelle copertine. Io ti racconto il mio approccio a Frieren, ho visto che tu hai raccontato il tuo. Eh, io me lo proponevano tutti i miei amici. Radagast me l'ha proposto, mi diceva dai, leggitelo. Eh, ho scritto io la trama per presentarlo in Italia, quando ancora non era, eh, non lo conosceva nessuno perché non l'aveva ancora portato J-pop e mi guardavo le copertine e me le riguardavo e dicevo, vabbè, fantasy. A me piace il fantasy come genere, però si presentava proprio male. Cioè, mi dispiace dirlo perché comunque già parto che... Io amo questa, cioè l'ho organizzata io questa live, io la amo Frieren. Abbiamo già iniziato con le critiche praticamente. Iniziamo con una critica. Però se devo dirti, se devo dirti, vabbè, tu dimmi qual è la tua critica, poi ne parliamo. No, critica. Intanto le mostro se vuoi, cioè se serve. Sì, è bravo, sì sì, anzi, se puoi leggere anche chi ci ha lavorato a J-pop, dietro, nell'ultima pagina, ci sono, che io adesso qua non ho il... Anzi, aspetta, lo prendo io. Se vuoi mostrare le copertine, lo prendo io che voglio farle vedere anche io. Va bene. Questa è la copertina del primo volume. Va che bellina. Con tutti gli eroi. Il party degli eroi. Questa è invece la copertina del secondo volume. Dove ci sono Frieren e Fern. La copertina del terzo volume. Eccomi, eh. Allora, ci hanno lavorato. Il quarto che avevo fatto vedere. A parte gli autori, Yamada, Kanekito, Kanekito è il nome, Yamada è il cognome, e Abe è Tsukasa. Tsukasa è il nome e il cognome è Abe. Perché uno è un disegnatore e l'altro è un... Ha scritto il testo, cioè la sceneggiatura, insomma. E poi in Italia c'è traduzione Matteo Cremaschi, editing Ilenia Cerillo, lettering Mauro Saieva e basta, mi pare, sì. Quindi, grazie a chi ci ha lavorato. E vabbè, non sto a dire la solita cosa, insomma, le cose che ho già scritto su Instagram, sulla mia pagina dedicata a Frieren, dove comunque metto le curiosità, insomma, le cose che magari arrivano dal Giappone, insomma. Però sono due autori che non si conoscono, cioè che non si conoscevano fino a, insomma, fino all'anno scorso, fino a una notizia che era uscita l'anno scorso, che non si erano mai visti, che non... cioè particolare come cosa, no? Un team che non si interfaccia fisicamente. Ma neanche per telefono si erano sentiti. Cioè, zero contatti. L'editor li ha messi insieme, ha detto lavorati insieme, perché li vedeva bene. Secondo me ha fatto benissimo. Cioè, forse ha percepito che i loro due sono un po' simili ad alcuni personaggi del manga. Cioè, nel senso, hanno un po' di difficoltà a relazionarsi. Sì, però sono paradossalmente come il nuovo party di Free Eren. Cioè, sono individui soli, che però hanno delle ottime capacità e se li metti insieme magari si crea un party interessante. Ed è effettivamente quello che è successo, se ci pensi. Esatto. Infatti, l'editor di Channel Sunday, che questo augura, è l'eroe che ha messo su, secondo me, questo party. Non a caso, forse anche perché sono un po' timidi gli autori, eh. Comunque non si fanno vedere. Hanno intervistato solo gli editor e tutte le volte che ci sono le premiazioni c'è l'editor che va lì e raccoglie il premio al loro posto. Grazie mille. Tra l'altro trovo anche la rivista con Free Eren in copertina. Bene, bene, vediamo. Lo prendo semplicemente perché, insomma, è una serata a tema. Certo, certo. Eccola qua. Ah, bella questa. Siamo avanti. Le carte le hai già fatte vedere? No. No, le carte no, perché le tengo ancora chiuse. In realtà, le tengo ancora chiuse. Belle, 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 belle. Sì, molto belle. E, senti, comunque, queste copertine, insomma, poco accattivanti, io le guardavo e dicevo no, sicuramente è una palla, quindi non me lo leggo. E andavo avanti. Ma io sono arrivata fino al terzo volume, che ho visto la copertina del terzo volume. No, è orrenda. Per me è proprio orrenda. No, vabbè, cioè, ho visto questa e ho detto no, non me lo leggo. Qui, invece, secondo me ci sarebbe bisogno di uno che fa le copertine, perché forse non è il lavoro di Tsukasab. No, infatti. Per esempio, qui parlo proprio tecnicamente. le parti dello sfondo più scure sono le stesse dei corpi delle protagoniste e le parti più chiare sono le stesse dei corpi delle protagoniste, il che non va bene, cioè non le fa staccare mai dallo sfondo. Ed è problematico, perché non poppano fuori, cioè non risaltano. Io, se Freeran lo vedessi in libreria, esposto così, io da lontano nemmeno riuscirei a distinguere le figure. Sono troppo delle illustrazioni e non delle copertine. Ma infatti, per esempio, ho apprezzato quando i francesi hanno fatto una copertina con questa immagine, no? Molto, molto meglio. Ha messo delle carte, però comunque è la stessa. Questa è molto bella. Forse dovrei avere. Ecco qua. Così, facciamo vedere anche cosa hanno fatto i francesi. Del primo brome mi è piaciuta di più la copertina della Variant, no? A me no. Io ce l'ho presa. Nella foresta. Sì, quella della foresta. Dovrebbe anche piacermi per il concetto della foresta, però secondo me veramente... L'ho presa perché, sai, ho quella malattia delle persone che si prendono la Variant solo perché è la Variant, non perché è bella. Ho anche la Regular, che però adesso ho prestato alla... cioè che ho dato alla mamma della mia amica. Ok, ok. Perché come tu ben sai, io sono molto insistente quando comincio a fissarmi con qualche serie e la voglio consigliare. Proprio pizzicando, pizzicando, pizzicando. Sì, sì. No, ma in realtà comunque il problema, cioè il problema c'è, è evidente. Anche qui dove effettivamente il disegno è diviso perché c'è questa scala che letteralmente divide lo sfondo dai personaggi. Però secondo me non riesce ancora a staccare bene. Si nota giusto Stark perché è vestito di rosso, ma Frieren e Fern sono vestite sempre crema, chiaro, come lo sfondo del muro. Secondo me si perdono un po' anche loro. Quindi avrebbe bisogno di ragionare più da copertina, come per esempio con questa illustrazione che prendi il personaggio, bello, grande, lo spari qua e vai col tango. Qui per esempio, cioè quella del numero uno secondo me è estremamente brutta. Cioè non si capisce. Poi non è molto accattivante, sono tutti quanti stessi. Esatto, cioè soprattutto io non sono per i titoli clickbait o tutte queste usanze ormai molto in voga, per attirare l'attenzione eccetera. Però devo dire che qua veramente ci si impegnano per non far interessare la gente. Io ci ho messo un po', io non so perché l'ho iniziata... Ah sì, l'ho iniziata a leggere perché noi abbiamo sentito finalmente questa puntata in cui scopriamo manga che non conosciamo, in cui sono costretta letteralmente a leggere il primo capitolo di ogni serie. Ho droppato quasi tutto, tranne Frieren. Perché comunque Frieren, leggi il primo capitolo, proprio ti rendi conto della differenza, secondo me, rispetto a tante altre serie. Diciamo che purtroppo si perde, cioè viene completamente bucato l'obiettivo acchiappiamo le persone con il fumetto. Acchiappiamo le persone con la copertina, non ci riescono. Però con il fumetto sì. Solo che qua, ecco, di nuovo anche tu mi confermi che ci arrivi attraverso le scan. Cioè tu volendo avresti pure potuto cercare, vedere e procurarti i volumi giapponesi, no? Anche volendo. Però ti è mai capitato? Beh, in Giappone sai che c'è che ci sono... Cioè sui siti hai la possibilità, sui siti ufficiali degli editori puoi leggerli, diciamo, i primi dieci, gli ultimi dieci o li mettono così, insomma. Poi volendoli puoi anche pagare, vedendo anche gli altri capitoli online, che è comunque una cosa che non disdegno, eh. Nel senso che io gli ultimi capitoli di Shingeki li ho detti su Magapokè, che era molto comodo con l'app e ogni capitolo costava un euro, voglio dire, cioè, con un caffè. Quindi non è stato neanche troppo pesante, diciamo, come spesa. In Italia, vabbè, è più difficile, ma soprattutto comunque sono... Anche vedendole in fumetteria, io trovo che queste copertine siano veramente qualcosa che allontana le persone dalla lettura, quindi... Un po' troppo piatte e sottotono. È un problema. Cioè, rispetto alla portata, cioè, alla grandezza del manga, poi, intendo. Esatto, perché, come ti dicevo, cioè, se sfogli già le pagine, leggi i capitoli, è una storia che non può fare altro che conquistarti, effettivamente. Ma, secondo te, vedi Vincenti più le coppie di autori, uno che scrive la storia e il disegno, o meglio un autore unico che... è vero che non si può generalizzare, però, diciamo, in linea di massima, tu che hai letto tanto, visto che io comunque ho letto poco, eh? Allora, effettivamente non è una pratica chissà quanto comune in Giappone avere il team di autori. Ci sono tanti manga famosi che sono stati realizzati da due persone. Vabbè, in generale, comunque, i manga sono sempre un lavoro corale, un po' con gli assistenti, un po' con l'editor. La storia esce fuori, non è vero che fa sempre tutto solo l'autore originale. Però, eh, devo riscontrare una cosa, che quando ci sono due autori, eh, la storia ha un valore aggiunto, che è quello di non perdersi troppo. Capita a volte che un autore, quando fa tutto da solo, riesca, nella... in un grande sforzo intellettivo, a riagganciarsi a tutto quello che ha fatto prima, eh, però di solito, quando ci sono scrittore, disegnatore, eh, ho sempre letto dei manga abbastanza quadrati, eh, come, per esempio, può essere anche Death Note. Mmh, Death Note, sì. È un esempio proprio classico. Esatto, e come può essere anche, eh, non dico per forza One Punch Man, ma pure un recentissimo, un recentissimo Dr. Stone. Eh, sono sempre delle storie che filano molto bene, perché ognuno fa il suo mestiere. E quindi questo, secondo me, aiuta un po' a liberarsi dalla pressione di dover pensare alla storia, scriverla, disegnarla, fare il name, la bozza, e poi disegnarla effettivamente con gli assistenti, eccetera, eccetera. Eh, dividersi un po' i compiti, come d'altronde si fa, per esempio, anche in Occidente, eh, li aiuta un bel po'. Mmh, 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 però non, il rischio forse è quello di perdere un po' l'identità, no? Di quello che sono gli autori, perché comunque, eh, diventa più impersonale. È comunque un prodotto. Beh, sicuramente, sicuramente uno può magari arrivare a pensare, ah, ok, allora ha fatto il compitino e non ha portato chissà cosa a una sceneggiatura già fatta. Però, eh, bisognerebbe vedere effettivamente quanto di sceneggiatura è stato scritto, perché non è sempre vero che le sceneggiature sono iperdettagliate. Magari, eh, Kaneito Yamada ha scritto in maniera molto vaga come deve rappresentare delle cose, e Tsukasabe poi ha fatto tutto il resto, l'ha fatto a modo suo, a modo personale. E quindi, secondo me, c'è da tenere conto anche di questo, di quel margine di libertà che si danno gli autori. Poi, sono convintissimo che essendo così diligenti e bravi, e soprattutto un po' timidi, insomma, tanto da nemmeno incontrarsi, per qualsiasi cosa stanno attenti, e si parlano sicuramente se vogliono fare un cambio. Però se ci deve essere, perché magari Tsukasabe vuole disegnare una cosa, non penso che Yamada gli dice no, lo devi fare, glielo lascia fare tranquillamente, sono sicuro di questo. No, no, certo, c'è Feeling comunque, poi comunque erano già due autori che erano portati, che sarebbero stati bene insieme, nel senso che li ha messi insieme per un motivo l'editor, no? E nell'intervista che ha fatto la casa editrice francese agli editor appunto, hanno detto che comunque è uno dei primissimi lavori, è il primissimo lavoro di Abe, e lui l'ha trovato così su internet, cioè gli piacevano i disegni, gli ha scritto. No, ma si vede questo, eh? Cioè si vede che ha una formazione digitale, a differenza di tante altre cose. Ma per la pulizia, dici, delle linee? Sì, per l'estrema pulizia, e per quelle cose dove percepisci ogni tanto, anche se è abbastanza bravo a nasconderlo, percepisci ogni tanto che i personaggi sono... Ma perché è una vergogna, non ho capito, uno lo deve nascondere che ha una formazione digitale. Allora, semplicemente, quando realizzi una cosa cartacea, un errore può diventare un vanto autoriale, può diventare un momento di arte. Hai sbagliato a tirare una linea, con l'inchiostro allunghi dai localchi e magari dai più carattere a quella scena che precedentemente non ce l'aveva. In digitale no, in digitale non esiste. Sbagli, cancelli, torni indietro. Però ogni tanto percepisco, sia nelle copertine che nelle pagine, che i personaggi sono un po' staccati dallo sfondo. Molto probabilmente ogni tanto li disegna separati. E alcune volte questo può dare un senso di straniamento. Non in vignette principali. Di solito in quelle dove i personaggi sono marginali rispetto allo sfondo. Però lo percepisco ed è, diciamo, un po' strano. Tutto qua. Non capito. Non capito. Ho fatto una storia per sapere se qualcuno aveva, insomma... Oddio, sta cosa sta diventando un'analisi di critiche, però. Ragazzi, io... È una serie che veramente la amo alla follia. Come dice giustamente, però, Domenico, forse chi la critica di più è anche chi l'ama di più. Quindi comunque volevo indagare, anche perché di complimenti ne ho sentiti già. Moltissimi streamer, come dicevo prima, ne hanno parlato. E quindi, insomma, è bello che sia un after fantasy originale, eccetera, eccetera. Però, ecco, non volevo soffermarmi su queste cose che non sono banalità, assolutamente. Però l'hanno già detto, insomma, da altre persone. Quindi, insomma, io volevo fare qualcosa che aggiungesse qualcosa in più, insomma, a tutto quello che è già stato detto. Quindi, ecco, una delle critiche che sono state mosse e che trovavo interessante era la mancanza di dinamicità negli scontri, per esempio, nei combattimenti. Non so se... Fra l'altro, combattimenti che secondo me arrivano quasi a cambiare il tono della serie. Cioè, inizialmente è tutto molto flemmatico. È molto tranquillo quello che succede. Anche se ci sono dei momenti dove è necessario l'uso della magia o comunque un uso muscolare. In generale, il fumetto è molto flemmatico. Anche le cose che succedono, usare magie per spostare i sassi, Free Ren che è sempre stanca e appesa e appoggiata a qualche albero e cose del genere. Ma anche tu trovi che sia lenta la narrazione che è comunque un'altra critica che è stata mossa, diciamo... A livello di ritmo narrativo, eh? No, no, no. Io non penso che sia... Cioè, che sia flemmatico e lento. È una sua caratteristica. Non la percepisco come una cosa negativa. Cioè, è un manga che letteralmente deve prendersi del tempo per raccontare appunto una... È anche diegetico da questo punto di vista. Una immobilità del personaggio. Il personaggio che sta sempre lì a stagnare. È un personaggio che, fra l'altro, viene preso all'interno di questo gruppo di eroi. Lo vediamo nei flashback del passato. Mentre era a stagnare in una posizione passiva. Quindi è proprio l'anima del fumetto ad essere realizzato in questo modo. È proprio questo il senso. Uscire da questa condizione di vivo nella mia bolla e lascio entrare altre persone all'interno del mio mondo e noi non vediamo mai la vera parte attiva che è accaduta nel passato. Ma vediamo un reenactment quasi come se fosse una specie di seduta psicologica di autocura. Rifaccio tutto quello che ho compiuto per vedere per far vedere a noi lettori di cosa insomma è capace Frieren qual è il suo atteggiamento e come ha imparato dai propri errori. È veramente un romanzo di formazione giovane fresco lento sicuramente ma lento non vuol dire brutto lento vuol dire che si prende il suo tempo che deve raccontare bene i personaggi. Che cos'è lento per te? Beh lento allora tenendo conto del fatto che in realtà tra un numero e l'altro passano tantissimi anni non è la questione della progressione temporale perché passano veramente un botto di anni a volte anche all'interno dello stesso numero Lenta è A livello di eventi? Guarda a livello di eventi Frieren non offre chissà quale grande sorpresa già il fumetto stesso di base ti dice rifarò tutto quello che ho già fatto e questo potrebbe essere di nuovo un altro non dico inciampo però mi sembra lo stiamo distruggendo questo fumetto no no assolutamente però di nuovo mi sembra un girare intorno al punto quello che faccio io esattamente per questo ti piace un botto girano intorno al punto di questa cosa cosa ha perso lei e cosa vorrebbe non perdere in verità questa ripetizione perché il fumetto è molto ripetitivo da questo punto di vista la lentezza nella progressione degli eventi lo senti perché ripete le stesse cose che ha fatto nel passato non è che abbia chissà quali grandi luoghi da mostrarci oltre la serata delle comete e i castelli bellissimi alla fine è sempre tanta natura rocce qualche alto piano ma la fauna non è i biomi i biomi non sono così diversificati è sempre tutta una specie di foresta con qualche strada di roccia più dei villaggi ecco per esempio quando si va nei villaggi non ho percepito tantissimo la differenza tra un villaggio e l'altro sento la differenza nel progredire delle stagioni perché c'è la neve perché il clima è più secco perché c'è la pioggia queste cose qua sì però c'è un villaggio vale l'altro devo dire che da questo punto di vista mi sembra effettivamente un'esperienza digitale da videogioco cioè capisco da dove viene questa roba qua ma anche i combattimenti sono di strategia sì anche i combattimenti sono molto alla dragon quest io faccio una mossa tu ne fai un'altra e poi diventa un escamotaggio anche narrativo per far parlare i personaggi però è letteralmente io faccio questo poi c'è la contramossa io faccio quest'altra cosa però questa dinamica da videogioco è interessante però è un omaggio anche sì 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 perché non è trattato in una maniera banale ma infatti perché io l'altro giorno mi è capitato non so se è un video recente di te Samo Buta e Kirio e Mangaka che parlavate dei criteri oggettivi nel non so se era un video è recente vero? sì 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 di qualche giorno e quindi mi sono molto posta questo problema per valutare Freel perché molti dicono che è lento perché non succede niente ma a livello di eventi di trama di progressione della della narrazione però non essendo la narrazione questa non è quello il punto è esatto quindi io non lo vedo non lo sento come lento anzi a ogni capitolo io vedo che succedono tante cose ecco quello che dici tu è verissimo io sento anche quello che dicono gli altri cioè la lentezza degli eventi perché magari uno vorrebbe vedere il progredire e poi quando c'è diciamo c'è poca differenza tra un posto e l'altro questa è la mia critica ma per il resto da un punto di vista della progressione poi voglio tornare un attimo su questa cosa dal punto di vista della progressione dei personaggi in realtà è ricchissimo perché in ogni volume c'è crescita c'è davvero un avanzamento il punto è capire di che cosa sta parlando il manga sta parlando quindi arriviamo al punto 2 esatto però prima di arrivare un attimo al punto 2 perché tu subito lo vuoi sparare fuori volevo fare volevo chiarire no no perché volevo chiarire il mio statement precedente legato al fatto che questo è letteralmente un manga da rpg alla dragon quest però quando dico questo e parlo dei villaggi che sono un po' tutti uguali non dico che è una cosa negativa dico che è una scelta pensata perché è proprio come un videogioco solo che allora quando in un videogioco uccidi dei goblin che stanno assalendo un villaggio questo ha poco impatto su quello che tu fai come giocatore non è una di quelle scelte bivi che ti porteranno verso uno sviluppo di trama diverso è solo una cosa che tu fai in quel momento e ammazzi dei goblin che stanno dando fastidio a un villaggio però questo gesto che tu fai nei videogiochi come si tramuta all'interno della narrativa del gioco e nel manga che se tu salvi un villaggio allunghi sensibilmente la vita degli NPC in un villaggio e anche nel manga la loro qualità di vita ed è quello che fanno i personaggi cioè quando Friere ne si sposta da un posto all'altro e anche contropoglia fa delle cose in realtà è solo un atteggiamento perché lei comunque vuole sempre aiutare gli altri sotto sotto migliora effettivamente la qualità di vita delle persone che vivono in quei posti che lei torna a visitare 50-80 anni dopo e questo è quello che fa Friere perché Himmel è quello che l'ha fatto per primo con lei poi magari indagheremo questo rapporto tra loro due e andremo a scoprire meglio se c'è stata una ship oppure no e entro il quarto e il terzo volume si può dire questa cosa non chiede è successo niente non so se le hanno niente ragazzi ci sono tantissime cose ci sono tanti elementi ci sono tanti elementi è vero ma passiamo ma passiamo al punto 2 ossia Freiren quindi a fronte di quello che abbiamo detto Freiren è un altro manga di riti di passaggio visto che oggi non avevo ancora finito la mia reazione di rito di passaggio lo potevo dire ogni tanto mi manda un adio con solo rito di passaggio ricordatelo quindi sì secondo te direi di sì Freiren inizia proprio da questa premessa l'elfa ha vissuto dieci anni che sono un battito di ciglia per lei insieme a questi eroi hanno salvato il mondo hanno sconfitto il re demone e lei poi però si accorge di aver perso qualcosa di non aver compreso bene il valore delle persone che aveva a fianco con sé anche se poi andando avanti in una lettura scopriremo che non è propriamente così ci sono delle cose su cui dopo vorrei fartici ragionare anche a te interessante però diciamo che parte da questo assunto di base non ho conosciuto bene i miei compagni di viaggio col tempo passando gli anni i suoi ex compagni di viaggio gli affidano letteralmente un'eredità delle cose un obiettivo o anche dei discepoli e quindi effettivamente è un vero e proprio manga di riti di passaggio di cose che si devono ripetere questa cosa che tu mi dici sembra che non c'entra nulla ma mi ha fatto venire una cosa in mente una cosa fondamentale che invece io voglio dire sullo scorrere del tempo in Freel che poi è un fattore che fra l'altro è il personaggio principale del manga lo scorrere del tempo ed è fondamentale secondo me lo scorrere del tempo a parte che viene scandito quindi da nì capisci anche no? quanti anni dalla morte dell'eroe Himmel ogni anno poi le didascalie si aprono i capitoli riportando sempre da quando è morto Himmel ora stiamo vivendo delle cose esatto forse ecco se devo dire un'altra critica ma non è neanche una critica è che forse è leggermente didascalico l'avrei voluto un pochettino meno didascalico su alcuni punti che poi ti spiego comunque lo scorrere del tempo addirittura ci viene dedicato un intero cioè il secondo capitolo per ricordarti è il capitolo in cui loro passano tipo sei mesi a cercare un fiore e cioè l'unica cosa che succede in quella puntata ed è io avevo paura che al secondo capitolo mi avrebbe già deluso Frieden invece quella cosa mi ha proprio colpito nel profondo perché io sono stata tutto il tempo a leggermi sto capitolo dicevo vabbè succederà a qualcosa giravo le pagine e dicevo succederà a qualcosa giravo la pagina poi a un certo punto puliscono la statua ed è finito il capitolo esatto bellissimo quella cosa da una parte mi ha lasciato tipo ma ma così e dall'altra però ho detto cavolo cioè questa cosa è è fondamentale e mi ha fatto percepire tutto lo scorrere del tempo perché sentivo l'ansia io sentivo l'ansia di di Pern che voleva andare oltre voleva continuare a viaggiare e sentiva che comunque la sua vita in quel momento era ferma e quello mi ha fatto capire che comunque il tempo passava poi vabbè a parte tutti i discorsi che loro si fanno sul confronto di Pern che si incazza che poi secondo me è un personaggio secondario molto sottovalutato che ha una grande importanza ma è difficile da coglierne la portata perché un po' perché gli autori non l'hanno forse messa in risalto abbastanza con le sue caratteristiche e un po' perché comunque già di base è un personaggio con un carattere un po' che rimane in secondo piano però per me è molto funzionale Pern nel farmi percepire per esempio il passare del tempo che è un elemento chiave sì 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 ma questa cosa poi torna anche con Stark che quando lo prendono dal villaggio dove è rimasto per tre anni dice è sembrato un'eternità sono stato là tre anni e Freeran dice ma è effimero tre anni così poco pochissimo e lui ma come pochissimo tre anni capito quanto sono ecco i commenti di lei però sono un po' di Tascalici i commenti di Freeran sono di Tascalici per me bastava Fern che ha l'ansia per me bastava Stark con il suo commento magari una Freeran indifferente non lo so però preferirei che lo dicesse meno spesso perché poi effettivamente lo dici spesso è vero che se no forse non ci arriva comunque stiamo sempre parlando di uno shonen e da qua infatti vorrei arrivare anche a parlare del genere ma prima io sai di che cosa mi sono un po' accorto forse è che come ti dicevo prima non ha meme il personaggio principale del manga è seriamente il tempo e la percezione di esso e Freeran è il narratore Freeran sta lì e fa quei commenti perché lei è uno invincibile due vecchissima sa tutto sa tutto di tutti e la storia è già vissuta lei la sta semplicemente ripetendo quasi come se fosse una specie di demiurgo che va in giro sì a seguire le volontà dei suoi precedenti compagni ma in realtà è un modo per aiutare se stessa a capire delle cose e vedere questi personaggi che ripetono delle robe che sono state già fatte nel passato non lo so mi fa vedere Freeran come effettivamente non avulsa dal racconto ma in una maniera infradiegetica come il narratore che ci sta dentro e che sta lì e spiega e racconta le cose però è anche personaggio attivo è molto particolare Freeran come personaggio poi approfitto di questo momento per dire giustamente tu hai detto che lei è molto fredda con questi commenti Freeran significa freddo Freeran significa congelare in tedesco e infatti i nomi dei personaggi sono tedeschi anche Himmel significa paradiso infatti dovranno andare al paradiso cercare il luogo delle anime come viene detto nei volumi per incontrare Himmel che significa paradiso Hater stesso Hater significa allegro se non sbaglio infatti è un prete sempre simpatichino preso bene dal vino che beve tutto il giorno sì sì solo Heizen credo sia giapponese forse lo sai tu no no ferro ferro Heizen ah Heizen sì sì Heizen cioè nella lettura giapponese chiaramente e giustamente è un nano che lavora il ferro ecco visto che abbiamo hai parlato del significato dei nomi è un'altra cosa un pochettino cioè non non è di Tascalica a me piace molto questa cosa della magia la magia ha un nome forse simil tedesco comunque prendi ispirazione sempre dal tedesco immagino no visti i nomi e poi però il nome tedesco comunque insomma un po' no occidentale è scritto nei kana che per chi non lo sapesse sono quelle piccole letterine piccolissime che trovate accanto ai kanji quando aprite un un fumetto e per farvi un esempio se riesco a trovarne uno che sia abbastanza grande non so se lo vedete lo vedi domenico ehm sì vedete questi ecco ci sono caratteri piccolissimi quelli piccoli a fianco ehm oddio ho preso un volume volume 7 vabbè non ho fatto vedere niente immagino non si è visto niente ok sì sono i i furigana sì esatta anche si chiamano anche si chiamano furigana o rubi insomma comunque diciamo che tutto questo discorso per dire mi sta facendo notare ehm fuori dalla live appunto eh domenico che questa cosa non è riportata ovviamente nell'adattamento italiano ma perché non c'è modo di a meno che non metti delle note alla fine insomma non c'è modo di farlo ruotare qualche volta utilizzano dei li utilizzano come se fossero sinonimi ecco la magia che uccide eccetera e quella è una scelta cioè la magia che uccide eh l'umano no è un po sembra suona un po stupido ecco però è è nello stesso tempo per me è molto efficace perché è proprio lo specchio della semplicità no della della serie è vero effettivamente una delle sue caratteristiche è che se lo leggi dici ma è tutto qua cioè se lo leggi una volta un volume dici eh ok cos'altro c'è nulla poi in realtà lo leggi un'altra volta e ti accorgi dei piccoli dettagli ti accorgi dei personaggi ti accorgi di quello che racconta ti accorgi di alcune cose che volevo chiedere anche a te perché io prima t'ho fatto t'ho messo questa piccola pulce nell'orecchio e Frieren non ha imparato niente dei suoi amici eh però quando ehm più avanti nel manga sempre all'interno di questi primi volumi iniziali eh si domandano qual è il tuo cibo preferito cosa ti piace mangiare lei ricorda quel momento dove tutti i suoi compagni le dicevano a me piace l'omelette a me piace mangiare questo poi si ricorda Hater che è schizzinoso e poi si ricorda Aizen che apprezza tanto l'uva aspra l'uva aspra sì c'è quella puntata e all'inizio del manga c'è quel momento dove lei va a cercare una magia che non serve a niente che magia è questa serve per rendere l'uva dolce più aspra sì sì sono tutte sono dei dettagli c'è veramente tanta cura al dettaglio questa cosa ha molto emozionato anche me e me ne sono accorta però solo alla seconda lettura perché comunque all'inizio vai avanti e non ci fai caso e te ne rendi conto quando te lo te lo rileggi quindi è così ha bisogno di essere riletto ha bisogno veramente del suo tempo di grande attenzione anche di essere riletto e questo ti fa riflettere sul personaggio di Friere nonostante lei sia fredda e abbia sempre un commento piccato per qualsiasi cosa forse non è così stronza è solo quella più grande è solo quella che forse sente di cioè è la più forte intubbiamente è la più grande di questo nuovo gruppo sente di meritare un un po' di rilievo in più e questo lo vedi anche in quelle piccole cose di gelosia tipo quando si confronta con Fern proprio dopo aver mangiato e lei che sta ad altezza petto di Fern osserva le tette e vede che lei ha un seno molto prosperoso e dice si guarda il suo mangiamo le stesse cose però com'è possibile com'è possibile che a me non crescono a lei crescono e c'è questa insida gelosia con Fern io credo che comunque avendo gli elfi un un'evoluzione diversa dall'uomo abbiano anche una crescita io non so se Freeren è già ha già un fisico adulto per essere un elfo questo non viene spiegato esatto si dice solo che lei ha più di mille anni però che vuol dire in questo mondo ancora non è stato potrebbe essere anche la sua adolescenza questa sì esatto non è stata ancora ovviamente non possiamo associare le due cose perché qua sono due concetti diversi insomma non è che puoi trasporre diciamo semplicemente allungare la vita umana per adattarlo agli elfi quindi diciamo che è un confronto che non si può fare però in linea di massima potrebbe benissimo essere comunque una fase iniziale ecco del suo sviluppo questo non non lo non lo possiamo sapere insomma sì comunque l'ho notato anch'io con la cosa dell'uva è molto come dire è veramente una chicca studiato bene la cosa che mi ero persa comunque il titolo in Italia è stato adattato come Freeran oltre la fine del viaggio che a me sembra che comunque riprenda un po' già un adattamento inglese insomma Freeran Beyond di Journey's End quindi che ne pensi ti piace non ti piace sapendo comunque partendo dal post che avevo fatto che so che tu hai letto insomma su Instagram sul fatto che significa Freeran dei funerali in realtà il titolo in giapponese e e che viene rivelato in realtà alla fine del del secondo volume esatto è anche questa cosa qua devo dire che è un po' non dico brutta e forse nemmeno tanto sbagliata nel senso nel manga loro sono gli autori decidono loro quando farci scoprire qualcosa il fatto è che questa questa specie di inadeguatezza che uno percepisce quando ha un prodotto tradotto in una qualsiasi lingua rispetto a quella giapponese è determinata dal fatto che il giapponese è una lingua che può prendersi tempo come Freeran molto spazio un kanji può significare più cose diciamo che questa questo non essere chiari è molto difficile per noi da digerire e si tramuta in quella che io chiamo inadeguatizza perché Freeran oltre alla fine del viaggio benché sia chiaro insomma è una cosa che a noi fa arrivare subito il senso di quello che è Freeran ma inizialmente perché poi giustamente nel secondo volume già si ottiene un altro senso e si dovrebbe offrire un altro senso Freeran dei funerali Freeran che porta la morte Freeran che porta la morte e anche gli amici io quasi quasi mi sento di percepire che il corno del re demone che lei ha lasciato a Himmel l'ha fatto morire prima del tempo questa è una mia illazione non c'è scritta da nessuna parte è una mia illazione però lei è quella che sopravvive a ogni party lei porta la morte porta la morte ai nemici ma porta la morte anche agli amici sarebbe da ripensare forse nell'ottica di vendere comunque un fumetto particolare come questo chiamarla anche Freeran che porta la morte o Freeran dei funerali insomma avrebbe reso un po' troppo edgy un po' troppo strano benché oltre la fine del viaggio sia ok l'idea vaga o meglio l'incipit dei primissimi capitoli comunque anche la trama attuale comunque sempre oltre la fine del viaggio chiaro vabbè è chiaro però quello è giusto insomma è l'inizio cioè così che comincia così comincia così devo dire che alla fine me lo faccio andare bene nel senso che dà comunque l'idea di quello che accade nel fumetto anche se non è estremamente preciso con quello che magari dovrebbe essere il senso del titolo originale poi non so se gli autori si sono espressi su questa cosa qua però se l'hanno voluto specificare qualcosa deve significare per loro in ogni caso e con questo non voglio dire che ci sia diciamo i due significati iniziali li ha già dati anche se anche io mi immagino altri significati cioè il fatto che sopravvive agli amici e anche nemici insomma c'è la sua longevità e quindi comunque il fattore tempo la memoria no e poi comunque a questo si lega anche il concetto dell'eternità dell'essere umano cioè mentre lei va avanti nel tempo è vero che lei fisicamente materialmente ha questa longevità eppure l'essere umano si dimostra quasi più eterno perché lei attraverso i nuovi amici ricorda i vecchi amici e comunque era un po' l'ossessione di Himmel no? Himmel l'ha insegnato che vivere significava anche questo cioè rimanere nella memoria delle persone ed è così che l'essere umano con la storia tramandando la sua cultura i suoi ricordi le sue gesta ma non tanto le gesta quanto gli affetti cioè le emozioni che trasmette rimane in qualche modo immortale questa è una cosa molto bella sì sì infatti diciamo che questo è un po' il senso di tutto cioè quale impatto la nostra vita avrà sugli altri ed è collegato a doppio filo con il rito di passaggio naturalmente cosa facciamo nella vita che ci renderà nella maniera stupidotta che faceva Imel con le statue cosa deve rimanere di me io lascio una statua così la gente si ricorderà sempre di quello che ho fatto però la statua è anche non è solo un monito ma anche un ricordo statue di Frieren palesemente non possono esisterne anche se le hanno fatte ma nessuno si ricorda di lei cioè lei è tipo un'ombra all'interno del party tutti si si ricordano di Imel chiaramente perché l'eroe e qualcuno che ha vissuto con gli altri personaggi si ricorda del prede e del nano ma di lei non si ricorda nessuno lei non lascia segno della propria presenza ed è questo che secondo me deve cambiare all'interno del suo operato lasciare un impatto di sé sugli altri che ha già fatto in verità però solo con il suo party perché alla fine sia Hater che Eisen riescono a prenderla in giro in un modo incredibile perché la conoscono bene perché ci hanno passato dieci anni insieme Kimmel ha lo stesso modo le lasciano eredità enorme loro la conoscevano più di quanto lei stessa credeva ed è lì che poi parte tutto dice questi che io ho sottovalutato finora mi sapevano più di me di quanto io credo è quello un centesimo della vita è un centesimo della vita che è diventato più importante sì potente veramente potente questo questo è importante e poi naturalmente la sua figura è anche un po' dell'adulta seppure in una chiave un po' sciocca sempre con dei commenti piccati diciamo tra molte virgolette non cioè non la considero una loli perché non è una bambina diciamo apparentemente è un adolescente però siamo insomma da quelle parti là a livello di di teasing di cose simpatiche da manga di questo genere anche se non si finisce mai nell'esplicitamente erotico seppur qualche volta Frieren la vediamo scalza o nuda però sempre di spalle non è mai sessualizzata no dire beh tranne quel gesto che fa Zain Zain come lo vuoi chiamare che comunque ci dovrebbe essere la pronuncia tedesca credo insomma se lo chiamiamo con in italiano no i bacetti che lei manda si che fa vabbè se questo è erodio se questo è erodio ragazzi capire benissimo che non è proprio per i fan di Nagatoro ecco ecco visto che parlavamo di valori abbiamo parlato di memoria di insomma dell'eternità dell'essere umano e Frieren secondo te è un manga diciamo che si pone questa questo ruolo di trasmettere i buoni valori Frieren effettivamente è un manga fatto di piccole cose anche il progredire del tempo tra l'ascendolo di Tascalie quando passa tanto tempo tipo passano sei mesi ad allenarsi passano tre mesi a fare una cosa una settimana a fare un'altra c'è sempre questo stile da parte di Tsukasabe di disegnare con delle vignette scollegate temporalmente sono dei momenti nel tempo tutta la progressione quello che accade magari Stark che si allena magari Frieren che cerca una cosa magari Fern che sta al mercato tutte queste cose qua tutti questi momenti slegati tra loro ma che comunque raccontano questa progressione molto molto lunga del tempo mesi interi e racconta tanto bene questo quanto effettivamente portare un messaggio di progressione di crescita che cosa deve fare Frieren nella storia non può più continuare a vivere nella sua bolla deve migliorare deve crescere deve imparare dagli altri forse in realtà ha già imparato però deve prendere coscienza del fatto che ha imparato qualcosa effettivamente un po' alla volta fra l'altro nel manga si scopre che i personaggi sono tutti orfani e questo effettivamente ti fa sentire ti fa nascere un pensiero serve una certa responsabilità all'interno di un qualsiasi agglomerato sociale si parla anche di agglomerati sociali si parla proprio di strutture gerarchiche a un certo punto soprattutto nella parte dei demoni si riflette proprio su quello che serve all'interno di una società per essere valida e organizzata ti spiega le apparenze ti spiega i livelli di forza ti spiega perché le persone si comportano in un certo modo è vero da un certo punto di vista è molto critico nei confronti della società così come organizzata infatti loro i protagonisti sia quelli del parti vecchio che quelli del parti nuovo sono effettivamente tutta una serie di personaggi spezzati sono orfani di guerra i demoni hanno ucciso la famiglia sono dei codardi sono delle bambine che non sanno cosa fare nella vita questa poca proprensione alla vita secondo me li unisce molto e capisci effettivamente che lasciare un impatto della nostra vita sugli altri significa anche che i bambini hanno bisogno degli adulti i bambini hanno bisogno di una guida che li aiuti sul serio questi personaggi con il progredire del tempo senza fare spoiler diventano incredibilmente intimi succedono tante piccole cose all'interno dei capitoli che ti fanno percepire proprio questo cambiamento Free Eren ha come obiettivo ultimo il cambiamento di se stessa forse anche degli altri e questo si nota all'interno delle pagine per esempio quando vengono attaccati dal demone che crea delle immagini delle persone più care c'è quel momento dove Free Eren invece di vedere la sua maestra vede Himmel e dice ah ok ho visto Himmel poi sempre fredda ah ok ho visto Himmel vuol dire che sono un po' cambiata questa presa di coscienza del fatto che effettivamente lei sta progredendo e anche gli altri insieme a lei possono progredire secondo me è importante tenere conto come dicevo prima siccome l'ambientazione non è poi così ben studiato preponderante più una storia di personaggi molto character driven questo senso di progressione dei personaggi di Sosono Free Eren ricorda secondo me le parti successive di Berserk perché proprio come Gatsu nella serie di Kentaro Miura riesce solo circondandosi dei nuovi compagni a cambiare la propria visione del mondo anche Free Eren arriva a cambiare la visione del mondo che ha apprezzando quello che accade sul momento invece di liquidare le cose come insignificanti perché quando la vede nel passato lei tratta sempre le cose ma tanto questa è una cosa inutile tanto io vivrò migliaia di anni eccetera eccetera ma anche perché in una società come la nostra tendiamo a trascurare tutte queste piccole cose e quindi anche un po' un invito a riscoprire in realtà quello che ci sta intorno io trovo che quei momenti dove loro si fermano mesi interi a studiare una cosa credo siano quelli più importanti e credo sia il vero messaggio di Frieren quello di apprezzare la vita in quello che ti offre che ti dà e nel non solo nell'apprezzarla ma anche nel capirla perché lei poi passa i mesi interi gli anni a studiare un grimorio a studiare una pianta a studiare una magia una cosa come funziona questa roba qua che io apprezzo tanto la ritrovo anche nel mio comportamento perché poi quando mi piace una cosa mi metto lì a sviscerarla a studiarla devo capire infatti era la domanda che ti volevo fare per chiudere un po' tutto questo discorso cioè qualcosa di personale ecco che magari in cui ti trovi per cui ti trovi in qualche personaggio comunque nella rama quello che stavi dicendo insomma esatto in questo e poi naturalmente io mi rivedo tantissimo in Stark ed Aizen ovviamente perché c'è quel momento dove il discepolo del nano che ha vissuto tre anni nel villaggio deve combattere contro il drago dice io ho paura io ho paura mi tremano le mani Friar and lo guarda e dice ti tremano le mani come tremavano ad Aizen e ricorda quello che faceva nel passato le loro mani che tremavano prima di affrontare un nemico è esattamente come faccio io quando io ho non è che mi tremano le mani però quando devo affrontare qualcosa che non conosco qualcosa che che è sconosciuto per me ho paura tanta però l'affronto lo stesso mi è capitato tante volte nella vita di dover prendere una decisione di dover scegliere un lavoro di dover non lo so anche semplicemente incontrare qualcuno c'avevo la strizza ma non mi sono mai tirato indietro con tutta la strizza l'ho fatto qualche volta andata bene qualche volta andata male ma non mi sono mai fermato e questa cosa qua mi è piaciuta veramente tanto perché mi ha fatto sentire Stark ed Heisen molto vicini a me bene bene io invece mi sono sentita Freiren quando non si è ricordata il dolce preferito dei suoi compagni non avevo nessun dubbio perché per due anni non mi sono ricordata che facoltà facesse Kenzo però 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 dopo due anni io me lo ricordo adesso 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 mo' che l'ha finita perché anche anche per me il tempo è molto dilatato e mi ha molto colpito il fumetto e tra tutti i personaggi scelgo Freiren anche questo ritorno diciamo anche al mondo di manga e anime i ragazzi con cui comunque sto condividendo queste cose hanno un'età molto più giovane rispetto alla mia per me è anche un po' un rivivere i miei momenti non adolescenziali ma comunque insomma giovanini diciamo non che sia una vecchia però comunque sì io ho circa mille anni insomma lo sapete i capelli sono così lunghi per nascondere le orecchie lunghe da elfo ragazzi e mi mi sento molto vicina perché anch'io mi impegno con tutte le cioè solo che certe volte non vengo la mia freddezza viene percepita come fredda eppure sono circondata da persone che in realtà mi mi danno tanto affetto gli stessi amici che ho trovato insomma in tutta la community della dell'aristofano di zio aristofano eccetera è un po' come un rivivere c'è anche un un entai in realtà in cui c'è sta ragazza che vabbè non c'entra non so perché veramente scusa non c'entrava niente infatti andiamo quanti con il discorso in realtà non mi interessa no c'è quello entai famosissimo per ragazze di una ragazza di 26 anni mi pare che si chiami 26 anni e qualcosa non mi ricordo il titolo scusate ma questa ragazza torna per caso in questo liceo cioè torna a fare la liceale perché ha l'aspetto di una ragazza insomma ragazzina perché deve prendere il posto di sua cugina che tipo è una una teppista non so e lei in qualche modo rivive la sua vita il suo momento adolescenziale è solo che con magari l'esperienza di un'adolta che comunque non guasta che l'aiuta a essere un po' fighetta insomma non troppo perché comunque rimane sempre molto insicura eccetera è un po' come un ritornare indietro no? e rivivere certi certi momenti e Freer sta facendo questa cosa e quindi anche in questo percorso mi sento molto vicina al non so se sono riuscita a rendere poi con questa parentesi sull'entai non vorrei parlando dell'entai sicuramente hai fatto dire bene cosa volevi dire non è non è quello che vi state immaginando assolutamente e dunque direi che abbiamo detto quasi tutto non so vuoi dire altri due parole in modo molto libero o se no ti faccio un'altra domanda sembra tipo l'interno non so se conviene fare guarda potrebbe abbassarsi il voto ti sto permettere 29 però da 29 a 18 può arrivare a 30 ma scendere anche a 20 28 è incredibile veramente mamma mia questo è uno dei motivi per cui non voglio mai venire a queste live però come ti ho detto prima la paura è mia amica mi insegna a superare tutte le avversità ma che paura le domande bastarde di Jake che arrivano domande bastardissime che arrivano vai fammi questa domanda vai fammi questa domanda fammi questa domanda ti ho mandato la scaletta ti ho mandato la scaletta un giorno prima adesso fa una domanda fuori dalla scaletta sicuro no 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 ci sono alcuni punti che non abbiamo toccato però io volevo partire cioè siccome ho portato avanti un po' in modo di la scalico cioè io critico free land di essere di la scalica poi ho portato la live avanti in modo di la scalica sei come lei e chiaro se ti piace lei allora ho detto ho detto vabbè lo faccio parlare insomma dice quello che vuole no? meno male meno male mi sembra di aver detto delle cose che interessavano a qualcuno quindi ti faccio puoi farmi la domanda sì 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 sei sicuro? se me lo domandi un'altra volta ti dico no allora vediamo un po' se ho l'immagine se ho l'immagine te la faccio vedere ma che ansia terribile che ansia terribile allora ok qua scena famosissima del addirittura del secondo terzo secondo secondo perché quello dei fiori quello che io mi ha colpito perché ho detto oddio ho finito qua esatto loro due che ridono e lei che schifo allora io ecco non volevo chiudere con una con una cosa che magari è un po' una critica però non lo so ho detto un manga che si pone intanto di distribuire di distruire sui valori questa scena a me ha dato un po' di se proprio posso dirlo di sessista nel senso lei dice che schifo guardando due uomini che si comportano in modo femminile allora mi fanno troppo ridere loro due non riescono nemmeno a pensare quello che dice Frieren anche se ovviamente è da tenerne conto ma in verità questo non è nemmeno l'unico esempio perché se ce l'andiamo a spulciare tutto ci sono molti e molti commenti piccati da parte di Frieren che sono veramente cattivi ma pure Fern che dice sempre a Stark che è un pervertito sempre costantemente anche senza fare nulla voglio dire però non è solo questo e non credo sia una questione legata al fatto o se non so se era questo il tuo discorso sembrano omosessuali no io volevo dire che volevo dire che loro sono due uomini due cioè che con diciamo generalmente due personaggi maschini uno è un guerriero l'altro è un prete eccetera che si divertono come se fossero cioè con una certa femminilità e per lei la femminilità è vista comunque schifo ok ho capito non avevo capito qual era che schifo che può essere anche un inquietante lei dice inquietante rispetto alla scena mi ha un po' lasciato perplessa però secondo me la mia interpretazione ok ok no perché secondo me inquietante ci sta ci sta molto meglio perché vede loro due chiaramente che non hanno assolutamente delle fattezze femminili fare una una posa però scusa un uomo non può fare il femminile no non è questo è che loro non sono no è che loro non sono assolutamente femminili cioè non è la questione che non può fare il femminile è che loro non sono assolutamente femminili però stanno facendo gli scemi mettendosi i fiori in testa e fanno guarda che sono bellina no non sei bellina fai schifo sei un nano baffuto corto bagonghi che cosa c'è di femminile nulla è inquietante vedere secondo me è lei dice è inquietante vedere guarda questi due che stanno facendo sono due uomini adulti che fanno questa cazzata da bambini mettendosi i fiori in testa facendo le bambine è questo il senso non penso ci sia una una sprezzante cattiveria però ho pensato che forse fosse uno scivolone che ha avuto l'autore ma nel senso che non ci ha pensato magari lui di base a quei pregiudizi no potrebbe essere non lo so non lo so siamo nel campo delle illazioni ovviamente sì sì esatto esatto è solo una mia interpretazione della cosa che ci ho visto un pochettino di come dire un po' di maligno insomma ho detto che forse potrebbe essere ma la malizia comunque c'è in tutto il fumetto perché sempre Frieren e Fern trattano malissimo Stark o comunque Frieren ha sempre qualcosa di negativo da dire su qualsiasi personaggio proprio per questo suo essere quella fredda che dice le cose senza riflettere sull'effetto delle proprie parole quindi penso sia semplicemente legato a quello che ha sempre un commento piccato su tutto sempre quello un po' schizzinoso che ho la puzza sotto al naso nonostante poi lei sia la prima a essere totalmente disordinata non si sveglia la mattina fa casino perché fa casino facendosi così cioè è tremendo cioè si mette nei guai ed è un fastidio per gli altri Frieren è un fastidio per gli altri e con Frieren sto dicendo sì J.Cott tu sei un fastidio sì ma non è vero e io sì sono un pervertito come Stark sì vedo le tette nelle forme delle nuvole sì ammetto il mio peccato no io sono sempre molto molto attenta anzi tranne quando mi devo ricordare la facoltà di Kenzo però quello è un dettaglio senti allora per chiudere come definiresti Frieren in due tre parole allora io penso che Frieren per tutto quello che racconta e per come lo veicola sia effettivamente un manga di enorme sentimento con una buona grafica dei bei disegni con una scansione del tempo che rende il tempo protagonista del fumetto protagonista del manga parte integrante effettivamente sia con le didascalie che con le vignette posizionate in modi molto specifici è un manga non convenzionale uno shonen di quelli che effettivamente ribaltano il senso degli shonen quelle storie da pentura anche muscolari che devono progredire verso un obiettivo qui l'obiettivo è stato già raggiunto non c'è nulla da raggiungere cioè da imparare di più dal mondo e da se stessi e secondo me si può essere certi che ovunque andrà a parare se sono un frieren sarà un'esperienza di lettura soddisfacente e catartica bene molto bene io dirò la mia è magnifico basta me l'ero preparato perché mi dici sempre che ogni cosa ogni domanda ti toccano dieci minuti di audio quindi me l'ero preparato ragazzi vabbè ma manca a far così però cioè che cosa magnifico vabbè a posto va bene ragazzi senti dai allora ti lascio andare che domani hai questo questo lavoro a Romics esatto fino a domenica quindi chi lo volesse andare a trovare alle due hai detto giusto domani domani giovedì alle tre alle tre dalle tre alle cinque allo stand e tredici padiglione sette con manga io e sarò tutti i giorni a Romics con manga io poi sui miei social troverete tutti gli appuntamenti bene bene mentre noi invece torniamo la settimana prossima con shonen night e yomi no tsugai quindi alla prossima ragazzi grazie 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 a tutti